Casterlarte C'è un aspetto, una piazzetta particolare che molti visitano qui E la sezione memoria che gli organizzatori hanno voluto dedicare a Giovanni Mellarancelo Pittore Terramano scomparso, se non erro, circa 20 anni fa Di meno, nel 78 Nel 78 Il critico d'arte Antonio Gasbarrini stasera è venuto qui per parlarcene brevemente Per quanto possiamo fare attraverso questo mezzo per riscoprire ancora in questi pochi giorni La bellezza grafica di questi quadri, ma soprattutto il messaggio che si è voluto qui raccogliere Sintetizzare non è facile Quando mi hanno dato questa opportunità di dedicare la sezione memoria di Castellarte A un artista abruzzese scomparso Per la verità di artisti bravi scomparsi negli ultimi anni ce ne sono moltissimi E' stato quasi automatico pensare a Giovanni Mellarangelo Prima di tutto perché come artista diciamo che è stato sempre un po' restio ad apparire in pubblico Giovanni Mellarangelo ha fatto pochissimi personali, moltissime collettive durante la sua intensa attività E poi perché mi sembrava un atto dovuto Nel senso che non sempre, direi quasi mai, i reali valori in campo nel settore culturale Emergono per il loro valore E Giovanni Mellarangelo è uno di quelli che ha segnato la storia dell'arte in Abruzzo Ha costituito un polo di riferimento per molti militanti e per il rinnovamento dell'arte in Abruzzo Questo soprattutto negli anni 50 e 60 Ha vissuto questo mondo che io ho definito nella presentazione di catalogo pianeta circo Un mondo autosufficiente per certi versi Ma un mondo che è poetico per quando riguarda gli essiti Ma fortemente motivato in senso esistenziale Tutti i personaggi di Giovanni Mellarangelo Ad iniziare dal suo beffardo, l'ho definito io, autoritratto del 1953 Vestito con il saio dominicano L'Arangelo, lo sanno tutti, era un militante comunista E per questo ha pagato molto in termini di incomprensioni Quindi ad iniziare da quell'autoritratto A tutto ciò che ho proposto grazie alla collaborazione fenomenale Che c'è stata del figlio Sandro, anche gli artista Del figlio Peppino Di alcuni collezionisti, tra cui l'avvocato Lettieri I quali hanno dato la possibilità con opere calibrate A partire dagli anni 40 fino agli anni 70 Anno della scomparsa, di ricostruire quasi come tessere di mosaico Questo pianeta circo Perché pianeta circo appunto qui a Castellarte? Qualche curioso, cioè che non sono tutti indenditori come lei dell'arte E guarda appunto questi clown qui che alleggiano attorno a questa piazza Quale messaggio si è voluto rappresentare con questo? Clown, io poi dico ballerine, donne cannone Potremmo sintetizzare il messaggio di Melarangelo in quel quadro Che sta benissimo in una storia dell'arte contemporanea Che è Arena Popolare Un quadro che è degno di stare accanto Io ho richiamato alcuni quadri notissimi dell'impressionismo Come la Grand Jatte E perché? Perché in questi quadri di Giovanni Melarangelo L'arte è quasi un pretesto Quello che è importante invece è l'uomo Cioè per Giovanni Melarangelo era importante interpretare Che cosa ci fosse dietro la maschera Dietro il sipario Queste ballerine acerbe Che cosa rappresentano? Come si muovono? E quindi la sua è sì una resa per immagini Ma una resa poetica che ci parla dell'uomo Ci parla dei sogni, delle delusioni Il circo da momento di divertimento Diventa un momento drammatico Un momento della solitudine Cioè vedere al di là sotto il belletto della maschera Sotto un pensiero cosa c'è Giovanni Melarangelo ce l'ha fatto capire per accenni Giovanni Melarangelo è un Nel filone possiamo senz'altro inserirlo in quello del realismo Però un realismo che è stato poi sublimato a livello tecnico A livello di immagine, a livello espressivo Da una padronanza informale nel gestire i momenti cromatici ad esempio Da un momento astratto E ci sono quadri che si impongono per la loro modernità Nel senso che Giovanni Melarangelo non ha mai seguito nessun filone di nessun genere Si è ispirato al suo mondo interiore E da questo mondo ha tratto la sua lingua, il suo linguaggio Che è un linguaggio puro, un linguaggio pulito È un linguaggio dell'arte e della poesia Un linguaggio che non si impara a scuola Che non dà nessuno Ma che riesce ad affermarsi solo se è autentico Solo se è fortemente sentito dall'autore di questo linguaggio Ecco lei in questa occasione ha fatto riscoprire ai terramani Noi terramani soprattutto La preziosità di un artista che non è più Ecco al di là di questi quadri Qual era l'altro messaggio di Melarangelo Che resta ancora nelle sue altre opere che non sono qui esposte Certo, diciamo accanto al pianeta circo Melarangelo ha trattato due altri motivi fondamentali Quello del paesaggio Ed è quello del ritratto Però a mio modo di vedere La modernità Perché questo è un fatto molto importante In provincia spesso i messaggi ci arrivano con ritardo E sono rielaborati spesso in senso quasi dialettale In senso orecchiato La modernità di Melarangelo sta nell'essere stato autonomo Ma collegato ai grandi movimenti d'arte Cito per tutti negli anni 50 All'inizio del dopoguerra I contatti con la scuola romana I contatti con il gruppo del sedi Torino I contatti con... Ecco, Melarangelo seguiva molto il teatro Tra parenti si lavorava negli anni 20 Addirittura in giornali satirici come caricaturista E diciamo in questo suo essere a contatto Con la realtà sociale, umana Contatto dal quale poi derivava questa sua militanza Di sinistra Lui ha sempre visto al di là dell'immagine Cioè il quadro, il ritratto, il paesaggio Non sono mai fine a se stessi Non sono un'esercitazione accademica o virtuosistica Sono un modo, un momento per avere un impatto con questa realtà E per riproporcela in termini sublimati In termini poetici In termini caldamente umani Io credo che con poche parole In pochi minuti Lei è riuscito a renderci il personaggio A farcelo ricordare A farlo conoscere e scoprire Quanti forse non hanno avuto occasione di conoscerlo Ecco, si chiude anche Castellarte C'è questo messaggio Questa mostra che è stata proprio venuta In memoria di un terramano Il critico d'arte che abbandona Che lascia Quale messaggio può dare invece ai terramani Perché si possono ricordare ancora nel futuro Devo dire che i terramani si stanno ricordando di Melarangelo Tant'è che è stato costituito Uno comitato per le celebrazioni di Giovanni Melarangelo Un anno fa, due anni fa Il quale comitato Oltre a farsi promotore Per la dedica di una via a Giovanni Melarangelo a Teramo Sta predisponendo una grande mostra risospettiva Con un'edizione di un apposito catalogo che sarà curato da Micacchi E quindi diciamo La città ha preso coscienza A prescindere da questo omaggio Del valore di Giovanni Melarangelo E sta facendo in modo che questo valore Va da Extramenia, fuori le mura Per me c'è un rimpianto Il rimpianto è questo Che il pianeta circo Una volta che si allestisce una mostra La mostra diventa quasi del critico che l'ha allestita Il critico se ne appropria E tra due o tre giorni Quando questo pianeta Il circo lascerà come si fa normalmente Il posto, la piazza Per dirigersi in altri liri In altre parti C'è un senso di rimpianto e di nostalgia Ma un senso di forte amicizia Perché il miracolo dell'arte è questo Le opere vivono E sanno andare oltre l'artista E questo solamente se l'opera è autentica E quello che ha dimostrato questo pianeta circo Che Giovanni Melarangelo Era un artista autentico Con la A maiuscola Che può diventare un punto di riferimento Non solo per le nuove generazioni Ma per molti critici Per molti studiosi Che devono riscrivere importanti pagine La storia dell'arte in Italia Anche rivedendo queste pagine Alla luce dell'arte altissima Del Magistero di Giovanni Melarangelo E la ringrazio Riforma dei Migliori Uri Anche potersi rincontrare di nuovo Con Giovanni Melarangelo Forse su altri liri In altre piazze Grazie Grazie